è andato di fatto questo e allora caputo e dopo i 20 minuti forse non ci credevate poi alla fine secondo me siete stati molto molto bravi e avete assolutamente meritato il pareggio a mio avviso? Io penso che i primi 21 minuti abbiamo sbagliato l'approccio e quando sbaglia l'approccio contro il Palermo che ha giocatori importanti è normale andare sotto però gran merito per la reazione, gran merito per non aver perso la testa, abbiamo trovato il 2 a 1, poi secondo te abbiamo trovato il 2 a 2, abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister, alla fine è venuto fuori questo pareggio, questo punto fuori casa importante a Palermo e prendiamo di positivo la reazione. Ma questo punto che alimenta le vostre ambizioni di promozione? Ma io come ho sempre detto in altre circostanze noi con molta umiltà e lavoro dobbiamo andare avanti, solo il campo potrà dire dove possiamo arrivare, dopo tre partite non puoi delineare il campionato, aspetteremo verso la 9-10 giornata per capire di che pasta siamo fatti.